E' stata veramente una mara sorpresa ieri mattina per i tanti clienti dell'ufficio postale di via dottor Consoli a Catania che hanno trovato le porte chiuse con un biglietto che ne comunicava la chiusura appunto per mancanza di personale. Non si era mai arrivati alla chiusura totale di un ufficio che garantisce servizi fondamentali e ora che la direzione delle poste, afferma il segretario provinciale della CIS, il poste Salvo di Grazia, affronti e risolva in via definitiva i problemi della carenza di personale. Affare da contrappeso il sovraffollamento di altri uffici dovuto proprio alla chiusura dell'agenzia di via dottor Consoli. Tanti cittadini che avevano delle scadenze hanno dovuto attendere il loro turno in altre sedi più distanti. La situazione degli uffici postali non solo di Catania ma di tutta la regione è all'estremo per la carenza di personale. La denuncia parte dal segretario regionale SLP CIS Giuseppe Lanzafame. È da anni che evidenziamo tale carenza che pesa soprattutto nei periodi estivi, quando il personale è in ferie o è costretto a ferie forzate di smaltimento. E ciò si riverbera anche sulle condizioni psicofisiche dei lavoratori superstiti, costretti a lavorare in forti situazioni di stress e sui clienti per nulla tranquilli quando sostano per ore negli uffici. Nonostante i bilanci inattivo da quasi un decennio sventolati e a più riprese, continua Lanzafame, l'azienda stenta a programmare una strategia di rinforzo, innovazione e modernizzazione. Comunque per assicurare i servizi anche con solo due sportelli, stamani l'ufficio ha regolarmente riaperto.